Ragazzi bentornati in questo video Oggi facciamo il nuovo video Salve a tutti Sono Anzaluta E venite nel mio canale Bombers X Che bel nome E lui è Angeles Ah è bel nome Fai cadere la lingua? Vampio Oggi faremo Un erno in duo Vai Scusate ma se questo film Dice un po' di parolacce ma E questo è un valore Vai e ora Faremo la challenge Con di schialgusto No non è di schialgusto È simile Caramelle asperissime Ragazzi Per il prossimo episodio Con loro 4 like Mi raccomando No bisogna pescare a caso Ecco queste qui sono quelle buone E queste sono quelle fattive E te devi pescare a caso Sì Vai No asper Non pesca io No io le metto tipo Una in mano mia Una buona e una fattiva E te devi scegliere Vai Guarda Eh ce la vedo nulla Asper Qui ci sono due caramelle Una buona e una fattiva Eh No Vediamo questa ragazzi No Questa è quella buona Quella buona ragazzi Allora qui ci sono due caramelle Allora qui ci sono due caramelle Allora qui ci sono due caramelle Non è vero Non è vero Non è vero Perciò di nulla Fa schifo eh E meno male buona Perciò Ha schifo Perché vi siete fermati Cioè ti fa schifo Una scena buona Qualcuna Oh no Azzurro Azzurro Vedi Sta bene Qui Bisogna andare bene Una parola Ma le scegli D'accordo Ma ti contento Quella cattiva E allora Ma quella buona Ma quella buona Di sciopi Ragazzi Asperato E resta a me Ok ragazzi Oh Quello Con me Come gatti Vai Aspetta Aspetta Con la mezza Di voodoo Tieni Più Tra queste due Questa Quella Questa 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 Buona Cattiva Questa Quella Buona Tutte Vuoi Vieni Qui Sprega Che mi serve La cinepresa Scacchio Questa Guarda Fai schifo 16 Minimali Oh 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 La fa veramente Schifo Anche a me Sta Ragazzi A me Adesso Passiamo al secondo Round Vai Qui ci sarà e bicchiere adesso passiamo al secondo round ah e chi perde si conta alla fine quante caramelle aspetta un uino e si chiede vai edo sta a te quale scegli? teniamo quella buona cattiva cattiva ragazzi no è sfrissima l'ho assaggiata prima devi mettere almeno cinque volte no che cinque volte? 5 volte? 5 volte? 5 volte? 5 secondi? no 5 volte vai vai vedere che ce l'ha in bocca? è durissima ma sti canna vai vedere che ce l'ha in bocca? vai vedere che ce l'ha in bocca? vai vedere che ce l'ha in bocca? vai vedere come sono le soliti caramelle devi tirerla almeno fino alla fine dell'astro eh guarda li vedo ce la fai sfruttare non li vuoi andare ora vieni ritoria. Ok ho ripreso tutto ok ho ripreso tutto ahah ahah Oh no no la sta parcia asbettava non sveglia ahah aiuto pesca il corpo urbani non è certo questo basta, non fai più non so cosa fare vai te azzurro, una buona proposta occhi azzurri è cattivo ciò che è spriciolata come accendiamo nessuno ci ha seguito guardate che trenti grazie guardate la maestrosa guardate la maestrosa quel casco aspetta, vanno a prendere l'altra faccia che non ci vuole niente devi venire qua ma scrivo col bicchiere di azzurro e limone guarda che schifo ragazzi guarda che schifo vacca guarda è perci hai perso Abbiamo preso quel per Manuel Aspettalo Allora Manuel Ma che cosa sta succedendo? Allora Questa è per Manuel Scegli Io Questa Quella è buona Buona? Sì Che lingua Veloce dai Questa è quella buona Ho visto via Era anche rotta a metà Tocca a me Tocca a me Tocca a me No Tocca a me ora Ma Tocca a te Manuel Tocca a te No sono io che devo farci gli appena Come faccio? Sì 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 Parliamo che non siamo cattiva Ma sono già domani Da quanto tempo siamo qui? Da mille anni Guarda E' uguale E' uguale E' uguale E' uguale E' uguale E' uguale Ora siamo assicurati Una caccia 200 buone Vabbè ragazzi Scegli Dai una buona Una buona Dai veloce Ma quale? Quale? Che cazzo è successo qui? Quale? Dove è? Quale? Il tuo zaino è lato La caccia è l'altra E' l'altra Una buona Che è succedendo? L'hanno semplicemente aperta L'hanno semplicemente aperta L'hanno mesciata tutta la mia acqua A presto E' ragione che la mangiava Oh Oh Ma che cazzo è? E' me E' schismicicida Scusa Scusa Vieni Spegnite la cosa e andiamo Ok Non mi spiegati niente Non andarmene da qui Lo so Lo so E' allora Spendiamo Muoviamoci Ragazzi Ragazzi Carametti Chi è? No no Non c'è un pacchettino Non c'è un calco d'albero adesso capisco si è capito tutti oddio secondo voi è ancora arrivata alla fine se no poi chi ha perso chi ha preso quel caramello schifoso di noi? io una, lui due lui due, quindi per la fine devi mangiare quel caramello schifoso e brisciolata ragazzi per questa venite insa io subito 9 like 9 like ragazzi ho detto di lasciarlo sotto ciao ragazzi siamo tutti nella stessa parte tutta tutta ragazzi 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 per questo video sto per finirci è finito vai ragazzi spero voi ci vi sia piaciuto forciao ciao 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 ciao